Buongiorno, sono Rodolfo Galati e insieme oggi affronteremo un breve viaggio, un viaggio nel mondo del pensiero computazionale e di una sua applicazione, ovvero il coding. Stiamo parlando di cosa? Stiamo parlando di un insieme di processi mentali coinvolti nella formulazione di un problema e ancora di più nella risoluzione di questo problema. Quando parliamo del pensiero computazionale dobbiamo immaginare qualcosa di cross-disciplinare, come nella vita, come nell'esperienza, quando noi dobbiamo affrontare un problema, appunto cerchiamo di impiegare tutte le nostre conoscenze, abilità, capacità, competenze, atteggiamenti, ecco siamo di fronte a un processo mentale di questa tipologia. È un processo iterativo, cioè parliamo di una ripetizione, una serie di ripetizioni di tre fasi, basato su tre fasi, cioè la prima è l'astrazione, noi dobbiamo appunto astrarre, cioè formulare quale sia il problema, abbiamo l'automazione, cioè comunque appunto esprimiamo una soluzione che appunto si ripeterà in qualche modo per risolvere questo problema anche in altri contesti se ci sarà un problema simile che magari affronteremo, ecco che qui sviluppiamo quindi appunto una competenza e la terza fase è quella dell'analisi, ovvero l'esecuzione della soluzione e la valutazione anche stessa dell'esecuzione che abbiamo utilizzato per risolvere questo problema. Il coding dicevamo è un'applicazione, quando parliamo di coding parliamo di programmazione informatica, programmazione nello specifico a blocchi, una programmazione quindi semplificata come codice che può essere utilizzata appunto dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola di secondaria di secondo grado, all'università certamente appunto dipende sempre dal progetto che si intende realizzare e lo strumento può essere poi appunto impiegato un po' in tutti gli ordini di scuola. Partiamo da Bebras dell'informatica perché Bebras è una piattaforma che permette alle scuole, agli studenti e gli insegnanti anche di partecipare a contest sia a distanza sia in presenza. Adesso in questo periodo è in ristrutturazione quindi come vedete non possiamo in manutenzione utilizzare, allora io ho preparato delle slide, eccole qua, per farvi vedere di cosa stiamo parlando. Cos'è Bebras? Bebras è un luogo dove studenti individualmente, a gruppi, a classi eccetera, con i loro docenti, mettiamoci sempre appunto nell'ottica di partecipare con un po' la didattica ludiforme, che non è un gioco libero ma è appunto, è infantile, ma è appunto un giorno con delle regole molto precise, una competizione appunto senza particolare, come voglio dire, in asprimento del risultato, del raggiungimento del risultato, comunque appunto una sana competizione che permette a scuole, a insegnanti, a studenti di mettersi in realtà in gioco per risolvere dei problemi, per progettare delle applicazioni e via discorrendo. Allora come vedete in questo caso qui abbiamo proprio dei test delle attività che vengono temporizzate, solitamente si ha 45 minuti di tempo per svolgere circa 15 quesiti e quindi parte poi appunto questo contest tra studenti e bisogna risolvere quesiti come questi, non so se vedete, tra i castori sono di gran moda braccialetti magnetici fatti di palline chiare e scure che si possono agganciare e sganciare a piacere. La castorina Bea ne possiede quattro che ripone sempre ben allineati in un bauletto. Ieri sera indossava il braccialetto raffigurato qua a destra che è stato molto ammirato e quindi stasera vuole rimetterlo. Quale tra questi è il braccialetto che Bea indossava ieri? Quindi poi, diciamo, slegato dal polso, ok, sganciato dal polso, bisogna riconoscere nella sequenza e via così. Gli oblò, uno yacht ha oblò di due tipi, chiari e antisole, bisogna riconoscere quali siano nell'ordine, nella sequenza, nella serie che viene appunto rappresentata nell'infografica. E altri, vedete, quadrati cerchi e naturalmente tutto questo, associazioni, va risolto in un determinato tempo. Quindi questo è Bebras. Interrompiamo un attimo e andiamo invece a vedere un'altra risorsa, un'altra piattaforma per i bambini più piccoli. Bebras naturalmente può essere impiegato in tutti gli ordini di scuola perché ci sono diversi livelli, eh, Kilo Bebras, non sbaglio, Mega Bebras, Giga Bebras, Tetra Bebras, quindi ci sono livelli diversi di difficoltà utilizzando tra l'altro l'unità di misura dell'informatica e quindi appunto può essere impiegato un po' in tutti gli ordini di scuola. Allora, Blockly. Blockly, che cosa ci permette di fare Blockly? Per i bambini più piccoli stavamo dicendo. Ci permette per esempio di lavorare con Betta, la coniglietta che deve trovare delle carote e i bambini più piccoli, anche nella scuola dell'infanzia, eh, bambini anche naturalmente proprio piccolini, quattro anni, cinquenni, anche attraverso comunque la risorsa del, diciamo, unplugged della programmazione, quindi comunque facendo anche questa esperienza fisicamente, quindi appunto per esempio immedesimandosi proprio nel ruolo di Betta, la coniglietta, quindi posizionandosi nello spazio e usando poi anche lo schermo successivamente in modo speculare per lavorare anche sulla lateralizzazione, d'accordo, i bimbi possono simulare appunto un percorso per andare a prendere le carote. Qui Betta, la coniglietta, deve andare a prendere le carote. Ci sono, vedete, delle frecce da utilizzare per andare appunto a comporre il nostro script, la nostra striscia di codice e bisogna appunto immaginare quanti siano i passi. Sono due, bene, ma poi vedete, ecco, tutte queste inferenze vanno fatte con i bambini anche se sono piccoli, ecco il pensiero computazionale formuliamo, facciamo un'analisi prima di appunto, come dire, arrivare al processo, la fase dell'automazione, un circolo comunque virtuoso. Ecco qui, benissimo, io sono arrivato alle carote, anche il bambino se lo farà unplugged questo percorso, scoprirà che una volta è arrivato alle carote, se non le preleva con le mani, se non le prende, non si chiude, non si risolve, ecco la risoluzione della formulazione del nostro problema, non si risolve il problema. Quindi non è sufficiente, dobbiamo anche inserire, e il bambino poi appunto alla fine potrà capirlo e ripetere, ecco appunto il processo iterativo, ripetere in realtà poi queste fasi in modo proattivo. Ecco qua, guardate, abbiamo risolto il livello. Ok, allora, ci sono diverse, vedete, come dire, ambientazioni e, come dire, percorsi più che altro complessi, sempre più complessi, all'interno dell'attività proposta con Betta e la Coniglietta, ma abbiamo anche, guardate, tante altre attività proposte dentro Blockly, più o meno complesse. Qui appunto, vedete, i bambini devono essere già un po' più grandi, devono saper leggere, dobbiamo quindi appunto utilizzare i famosi blocchi per la programmazione, cioè devo comunque colorare tutta questa collana, ho questi blocchi a disposizione e devo non soltanto interpretare ogni blocco, che tipo di funzione attiverà, ma anche rispettare poi un ordine, eccolo qui, appunto, una ripetizione in qualche modo che sia una ripetizione adatta per svolgere questa, appunto, questa funzione per risolvere questo problema. Quindi devo colorare tutta la collana, la collana è composta, vedete, tra l'altro con quale colore? Il rosso, mettiamo il rosso, è composta non di cerchi, ma di stelle, benissimo. Potrebbe essere questo il ragionamento e potrebbe funzionare. Io vi faccio subito vedere, perché il tempo è poco, se noi in realtà invertissimo il blocco, cioè ci sono dei disegni stella che vanno colorati di rosso, vediamo cosa succede. Funziona? No. Vedete, non mi hai detto quale colore utilizzare. Lui ha bisogno prima del colore, perché in realtà si chiede di colorare che cosa? Una collana con disegni a stella. Quindi invertendo semplicemente l'ordine di comparsa di questi due blocchi, noi abbiamo risolto, vedete, questo problema, d'accordo? E via così. Adesso non vi faccio perdere troppo tempo, quindi possiamo andare oltre, d'accordo? Vedete che ci sono anche altre applicazioni, il disegno artistico di una tartaruga, risolvere dei veri e propri problemi, addirittura delle applicazioni ludiche, quindi appunto dei giochi, diciamoli così, digitali, che in realtà però appunto devono essere programmati perché funzionino. Passiamo alla successiva piattaforma, Blockly Games. Eccolo qua, Blockly Games. Blockly Games ci permette di fare dei percorsi, anche qua, adatti a bambini più piccoli, per arrivare e poi appunto a, come dire, ambientazioni, ambienti e problemi e circuiti molto più complessi che vanno bene per bambini più grandi, per alunni, studenti molto più grandi, non più bambini, ragazzi. Allora, il puzzle ve lo faccio vedere, sempre partiamo dalla scuola dell'infanzia, i bambini piccoli possono associare, vedete, l'anatra, la lumaca, il gatto, l'ape, quindi l'immagine con le tessere di un puzzle, il pungiglione, quante zampe hanno e comporre in realtà appunto tutte queste associazioni, fino a, guardate, anche il labirinto mi pare, diciamo, come dire, utile mostrarlo perché vedete qui io devo far completare un percorso al pegman, la molletta, perché arrivi fino a destinazione. Tra l'altro potremmo anche proprio veramente programmare un vero e proprio navigatore satellitare, utilizzando questo codice, perché poi vedrete in realtà, una volta risolto a blocchi, quando c'è il feedback sulla risposta abbiamo anche il codice in JavaScript. Comunque, facciamo finta che voi già non sappiate la soluzione, però vedete che abbiamo a disposizione questi blocchi, io come faccio? Viene subito da dire, ripeti, vai avanti, no? D'accordo, vai avanti, sì, va bene, vado avanti, però se vado avanti, poi prima o poi dovrò girare a sinistra, come faccio allora? Magari viene voglia di dire, va bene, gira a sinistra, cioè di risolvere questo, come dire, problema attraverso un processo mentale che ci faccia mettere insieme i blocchi in questo modo, ma capiamo che in realtà la soluzione potrebbe essere un'altra, cioè quella di andare avanti, d'accordo? Andare avanti almeno un paio di step, come vedete, girare a sinistra e poi chiedere al pegman di proseguire sempre sposta in avanti fino a quando non raggiungi la meta. E vediamo se questa soluzione possa essere la soluzione appunto... Ecco, e poi facciamo la nostra bella analisi, ecco vedete qua c'è il codice poi in Java, d'accordo? Quindi come volete, e possiamo passare al livello successivo. Allora, vi faccio vedere soltanto l'ultimo, come vedete non è per nulla banale comunque ad un certo punto, ecco perché parliamo di applicazioni che possono essere utilizzate un po' in tutti gli ormai di scuola. Allora, sempre Blockly Games, perché ne ha veramente tante di opportunità sulle quali cimentarsi, guardate anche qui, qui possiamo lavorare, per esempio in geometria, il concetto di geometria, l'angolo, il nostro uccello deve comunque prendere, in qualche modo appunto procurarsi del cibo da portare ai suoi piccoli al nido e quindi eccolo qua, 45 gradi, vertirà la sua traiettoria con appunto l'ampiezza del grado di virata dell'angolo e poi raggiungerà. Ma non è così semplice, vedete, adesso, scusate sono già stati realizzati, io cerco di, ok, facciamo da capo, ecco qua, allora se io qui devo già ragionare, se altrimenti c'è un'ipotesi, vedete che il processo mentale diventa sempre più complesso, in qualche modo è articolato. Cosa succede? Se io non ho il verme, allora dovrò fare un percorso in una certa direzione. Quale? Andiamo a vedere, ovviamente nella direzione in cui è già orientato adesso l'uccello, cioè andare dritto, in realtà non fare nessuna angolazione, quindi non, appunto, come dire, prendere nessuna direzione angolare, ma proseguire nella sua direzione come impostata ora, quindi direzione zero. Altrimenti dovrà fare proprio una virata di 90 gradi, compiere appunto una virata di, appunto, diciamo ad angolo retto e raggiungere alla sua sinistra poi il nido. Vediamo se funziona. Ecco qua, perfetto, abbiamo risolto anche questo livello. E si va avanti, abbiamo sempre anche il codice, vedete, in Java. Vi faccio vedere il livello decimo, come vedete, qui abbiamo anche il piano cartesiano, quindi appunto l'asse delle ascisse e delle ordinate, y e x, e dobbiamo impostare delle vere e proprie operazioni, in qualche modo. D'accordo? Allora, andiamo avanti, passiamo al successivo... Ah no, aspettate, mentre siamo ancora in blocchi, volevo farvi vedere anche film. Guardate che carino anche questo. Qui dobbiamo sempre utilizzare il piano cartesiano e dobbiamo andare a riempire, appunto, con le forme geometriche adatte, i colori, le sagome, la sagoma appena appunto accennata all'interno dello stage di, appunto, configurazione del problema da risolvere. Vedete, cerchio, io qui devo proprio andare a lavorare su ascisse e ordinate, d'accordo? Io devo sistemare in questo caso l'ordinata, avrei bisogno di avere y70, y70 e in effetti vedete che la testa si va a posizionare nel posto giusto. Qui, guardate, cambiamo soltanto il colore, ecco qua, abbiamo un colore viola, dobbiamo lavorare anche sulla larghezza, vedete, e anche sull'altezza, sarà circa 40, ma dobbiamo posizionare in questo caso, bene, le y, ci siamo, e quindi 40, eccolo qua, abbiamo posizionato y.